Ehi, è finito il live di Inga, finalmente, ora possiamo parlare di cose serie, ah no, sei ancora in diretta? Mamma mia, ragazzi, live nel live dentro il gruppo, attenzione, ma è successo questo? Io sto parlando di cose di serietà, di documenti, allora mi prendo Allora, ascoltate me, uscite dal live di Inga, entrate nel mio live, ragazzi, lasciate stare il live di Inga, noi qua oggi stiamo scrivendo la storia dei corsi di chirurgia zigomatica nel mondo, ok, non esagero, nel mondo, abbiamo qua tutti i modelli stereolitografici di pazienti che dobbiamo operare, e questi sono pazienti, per esempio, reali, che dovevano fare zigomatici e che sono morti, per fortuna hanno donato la loro TAC 3D alla scienza, e la scienza oggi farà una cosa mai realizzata prima, intanto li stiamo collezionando, perché poi abbiamo sotto SOS la nostra cripta, dove c'è l'ossario, abbiamo l'ossario dei pazienti che non ce la fanno, e queste sono delle repliche STL, che si possono stampare quante volte vogliamo, e noi qua stiamo registrando oggi con Eugen uno dei proprietari di una ditta di impianti zigomatica in Moldavia, quelli che sono i video che ci serviranno poi per i corsi della IDC, proprio su questo tipo di chirurgia, c'è con noi anche il dottor Giorgi, non è vero, è un idraulico, è un macellaio, stiamo già preparando e facendo i test noi per le trasmissioni in diretta, che avverranno giù in conference con tutti i dottori, di quelle che sono l'utilizzo di questo kit chirurgico specifico, il kit della IDC Implant è questo, e andiamo a numerare ogni singolo pezzo, e a registrare i video che poi entrano nei DVD o nella didattica di questa tipologia di impianti dentali, che è una tipologia particolare che ci permette di risolvere casi come questi, che sono quei pazienti che hanno perso completamente i denti. Quindi se state guardando questo video, sappiate che non ci sarà sangue, ok, perché i pazienti sangue l'hanno già perso tutto, sono rimaste solo le ossa, e un video didattico, questo che serve a illustrare quello che è il kit di utilizzo di questi impianti specifici. Io vi faccio un saluto e vi posterò qua sotto alcune foto, alcuni video di quello che abbiamo fatto.